Il popolo di Roma aveva una grande passione per le corse dei carri e poteva assistere a questo tipo di competizioni per innumerevoli giorni all'anno all'interno del cerco massimo. Infatti dall'età repubblicana all'età imperiale il numero dei ludi circense s'andò progressivamente incrementandosi tanto da arrivare a ben 66 giorni nel IV secolo d.C. Inoltre durante l'impero aumentò il numero delle corse organizzate in una singola giornata e vennero organizzati sempre più spesso spettacoli che duravano a mane ad vesperum. Il cerco massimo era un edificio di dimensioni davvero ragguardevoli con 580 metri di lunghezza. Pertanto i carri in gara dovevano percorrere una distanza di 5.335 metri in un tempo stimato di 12 minuti e 48 secondi nei sette giri di pista che costituivano la gara. Si trattava di una distanza e di tempi davvero ragguardevoli per il mondo antico. Le competizioni potevano essere di diverse tipologie. Si potevano avere uno, due o tre equipaggi per fazione e quindi il popolo poteva vedere nella pista gareggiare contemporaneamente 4, 8 o 12 carri per le quattro fazioni del cerco, quella dei bianchi, dei rossi, dei verdi e degli azzurri. Il tipo di competizione più amata dal pubblico era sicuramente quella singola in cui un'auriga si contrapponeva ad un altro auriga potendo dare dimostrazione delle proprie doti e abilità acquisendo in questo modo notorietà e grande fama presso il pubblico come avvenne per Gaius Apuleius Diocles il quale riportò ben 1064 vittorie in competizioni singole arrivando alla fine della sua carriera ad accumulare circa 36 milioni di sesterzi. Durante lo svolgimento delle corse ogni momento era pieno di suspense dalla partenza dei carri dai 12 carceres alla virata intorno alle mete, alla necessità improvvisa di una ripartenza all'errato calcolo della traiettoria da parte dell'auriga in testa alla competizione al naufragio. Questo infatti era un momento cruciale. Un carro si ribaltava nella virata intorno alle mete o per un'erronea valutazione della traiettoria da parte dell'auriga o per l'eccessiva velocità acquisita dal carro nel rettilineo che precedeva appunto la virata. I ministri, ossia il personale specializzato di pista dovevano intervenire per recuperare il carro che si era ribaltato così come per rimuovere dalla pista i cavalli e gli uomini eventualmente feriti. Gli spettatori dai loro posti a sedere lanciavano grida di gioia, di esortazione, di imprecazione rivolgendole sia verso gli aurigi, sia verso i cavalli di cui spesso conoscevano i nomi, ma anche verso altri spettatori vicini o lontani, spesso perché si trattava di fan di un'altra fazione. Furor circensis è l'espressione che nelle nostre fonti è adoperata per indicare questa malsana passione per le corse dei carri.